buongiorno video flash solo per non so se avete notato il buon Longoni ha risposto al mio video di ieri ma purtroppo in Italia è tornato questo cattivo costume di insomma quando uno dice la verità viene minacciato di querele se mi è stato detto che io ho minacciato qualcuno cosa che non ho fatto ho semplicemente espresso in quanto italiano in quanto avente diritto di parola ho espresso il mio giudizio su una persona che parla ad altri su un programma televisivo che a me non piace è un giudizio personale sono stato minacciato io a mia volta di querela ho risposto semplicemente dicendo che per le querele ci si può mettere in fila non ho problemi sono 30 anni che mi denuncia la gente quindi non è un grosso problema però vorrei ricordare questo a tutti quelli che speculano sul milano e hanno intenzione di andare avanti a speculare sul milan la festa è finita perché il tringa e gli ultras del tubo si sono stancati forse stiamo iniziando a far paura a qualcuno non a far paura nel senso vero della parola però qualcuno si sente minacciato dal fatto che stiamo crescendo e dal fatto che diciamo la verità io a longoni ho risposto dicendoli che scrivendoli e dicendoli e io lo dico ancora adesso che quando parla di calcio non mi dispiace anzi lo reputo un giornalista valido è una persona che capisce di calcio solo non mi piace quando si giudicano gli altri facendo lo stesso ho capito l'intento che era in quel video quello di di vedere e far vedere che basta mettere un nome per attirare l'attenzione è anche vero che comunque facendo l'esempio hai fatto lo stesso per il quale hai fatto la stessa cosa di cui gli altri sono stati sono stati accusati quindi caro luca io tanto di rispetto per il tuo lavoro tanto rispetto per te purtroppo le trasmissioni per cui lavori non mi piacciono questo è un parere personale ma non è che sto dicendo che tutti devono pensarla come me lontano da me questa cosa sto dicendo semplicemente che siccome quando si viene ascoltati da c'è da tanta gente bisogna avere un minimo di responsabilità bisogna responsabilizzarsi gridare non è una non fa vedere educazione non fa vedere non è buon esempio per per magari ragazzi giovani che stanno imparando a seguire il calcio sentire gente gridare non è buona educazione e non è buon esempio ma questo mio parere personale questo non è contro di te non è contro nessuno a te o semplicemente detto che secondo me quel video era accusare persone facendo lo stesso ora io non sto difendendo negli youtuber né nessun altro sto dicendo che ognuno si facesse il suo perché per me non è un lavoro però magari qualcuno ci campa la famiglia con questo e essere giudicato per il lavoro non è il massimo se poi chi giudica è il primo che fa la stessa cosa quindi non lo so io non ho niente di personale con te se tu hai qualcosa di personale con me ti ho lasciato la mia mail poi benissimo scrivermi via mail e basta io non ho comunque niente nei tuoi confronti personalmente ce l'ho con tutti quelli che parlano male di milan con tutti quelli che speculano sul milan con tutti quelli che cercano di guadagnare qualcosa come si dice sulla passione di altre su di migliaia di persone e sappiamo che fra queste migliaia di persone ci sono ragazzi giovani che magari pur dire pur di avere una risposta una domanda a una domanda fanno cose da non fare con i bancomat magari per fare per avere una risposta usano una super chat prendendo soldi che non hanno e questo è brutto da è brutto cioè brutto io questo il mio pensiero non è che sto dicendo che tu lo fai questo è il mio pensiero ma è un pensiero che ho nei confronti di tutti gli youtuber nei confronti tutte quelle persone che speculano parla che che spiegano le hanno capito che parlando di queste cose si può guadagnare qualche cosa a me non piace questo andazzo non è più calcio è business e il business si fa in un'altra maniera non si fa prendendo in giro le persone ora vi saluto ci vediamo più tardi per un prossimo video parlando di calcio non è un dissing non è niente non mi interessa a me per avere più visualizzazioni mi interessa poco lo sapete tutti benissimo che io con le visualizzazioni sinceramente mi sciacquo le cosiddette quindi ragazzi ci sentiamo più tardi